Per comprare una casa come quella della nonna, bisogna avere tanti soldi da mantenere una casa come quella della nonna, mantenere quella macchina lita che costa tanti soldi, e tanti soldi da poter vivere. Davvero? Sì. E' tipo un vitto? Esatto. Tipo un sindaco? No, tipo una persona molto ricca. Allora, una persona molto ricca si può permettere di comprarsi una Ferrari. Sono tutti ricchi. E li vanno stessi mai! Quelli che tengo a creare, i padroni di quelle Ferrari lì, sono tutte persone ricche. Ma tutte! Quasi maglietti? Da che erano? Perché adesso ce ne sono finti, che non hanno... Ah, è verità, è verità, se c'è la crisi, e non sono più ricchi, non hanno la Ferrari. Ah. Perché costa tanto mantenere una Ferrari. Ma se sei famoso, sei lì. Repita la Ferrari. Allora io non faccio un Ferrari. Sì. Dai, va. Solo che abiternamente. Che andiamo su, facciamo musica. Subito. Ma... Sei così noioso. Capito? Io sono noioso, posso andare a fare inglese, e dopo non andare a Shantinan. E' loro? E' loro che non chiedono per fare. E' loro. E' loro. Hai. Un po' è andato a litigare. No, un agitatore. Sono i miei piedi? No, guarda, non è vieno di papà. No. Non è quello della griglia? Non è quello della griglia. 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 Sono qua che devi consumare una battaglia in quel modo. Fa sì. E' stato un uomo di gioco. L'ho mandato un gioco. E' un fatto delle gioco, va.